3...2... Ora... Il primo è il piano... Ma... 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 Vieni... Visto! Inventi! 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 10 11 11 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16